Questa nuova realtà prende corpo in questi ultimi cinque mesi grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale di Altavilla Milica per averci affidato questo bellissimo palazzetto dello sport. Nasce soprattutto da un'idea progettuale proprio a settembre del 2017 per riportare nel nostro comprensorio di Bagheria, Villa Abate, Altavilla, Castel Dacia, Figarazzi e anche qualche altro paese limitrofo, la pallavolo maschile che manca a Bagheria da tantissimi anni, fin dal 95 quando abbiamo fatto l'ultimo anno della B2. È un'idea che appartiene a un gruppo giovane, sono tutti ragazzini che hanno dai 13 al più grande a 20 anni, sono ragazzi che fanno l'under 16, fanno l'under 18 e facciamo la serie D. La serie D però fatta in un girone particolare, un girone dove la pallavolo maschile ha sempre avuto una grande importanza e è quello del Catanese. Infatti abbiamo cinque squadre di Catania, una squadra di Ispica, due squadre sono di una di Catanissette e una di Agira e devo dire che sono delle bellissime esperienze perché lì stiamo incontrando la vera pallavolo. Sono felice di essere tornato dopo più di 15 anni ad allenare una squadra maschile e soprattutto una squadra giovane perché la nostra ambizione è quella di poter l'anno prossimo tentare il salto di qualità e passare in una categoria ancora più importante che quella della serie C. La società che ci ha dato la possibilità di sviluppare il progetto è la società di Mimmo Licastri e del gruppo sportivo di Villa Abate dove esistono già comunque altre squadre come la serie D femminile, l'under 18, l'under 16, sempre femminile. Quindi come vedete la contaminazione positiva nello sport esiste e si può fare. Il nostro motto è quello di crescere nella trasparenza, nell'educazione allo sport e soprattutto crescere come persone. Io sono felicissimo e orgoglioso di poter allenare questo gruppo della città di Altavilla perché credo che sia un gruppo in fase di sviluppo e di potenzialità inespressa ancora notevoli. Quest'anno stiamo continuando in questo progetto tutto basato sul settore giovanile. Io personalmente mi occupo del settore giovanile under 16 insieme ai miei colleghi che gestiscono il gruppo under 18 e serie D. Stiamo realizzando un ottimo campionato in tutte le nostre categorie soprattutto nella serie D, il prossimo impegno sarà questo sabato qui ad Altavilla quindi vi aspettiamo per seguire il nostro gruppo. Stiamo facendo un ottimo campionato nel girone di Catania Messina a cui siamo stati assegnati. Il prossimo impegno invece del gruppo under 16 sarà la prossima settimana giorno 26. Sarà anche qui in casa ad Altavilla, sarà uno scontro molto importante ai fini della qualificazione alle fase finali. È un bel progetto basato tutto sui giovani, tutti del nostro territorio in cui cerchiamo di creare un bel movimento quest'anno ma è un progetto pluriannale quindi cerchiamo di puntare anche sul futuro, sugli prossimi anni in modo tale da creare appunto un movimento stabile e duraturo e diciamo dare una possibilità in più a questi ragazzi che hanno bisogno di questa opportunità.